Vi saluto cordialmente, siamo giunti alla settima puntata delle trasmissioni sulla esortazione apostolica di Papa Francesco a Moris Letizia. In questa settima puntata proseguiamo la analisi del quarto capitolo del documento papale, un quarto capitolo dedicato all'amore nel matrimonio e che è stato introdotto, questo quarto capitolo, con una ricchissima parafrasi del famoso inno di San Paolo alla carità. Il Papa riprende, direi quasi pedisseguamente, tutte le caratteristiche delle caratteristiche pencate da San Paolo dicendo che anche l'amore degli sposi è chiamato ad essere paziente, a non essere invidioso, a non cercare il proprio interesse ma il bene dell'altro, a gioire del bene dell'altro e deve essere un amore che tutto scusa, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. Continuando questa analisi del quarto capitolo del documento pontificio, il Papa nei paragrafi dal numero 142 al numero 162 parla dell'amore appassionato, così egli lo definisce, cioè presenta in questi numeri dal 142 al 162 una serie di riflessioni molto belle per la verità sulla dimensione antropologica dell'amore fra due coniugi. Il Papa per esempio sostiene anzitutto che i desideri, le emozioni, i sentimenti occupano certamente un posto importante nel matrimonio. La parte emotiva e sentimentale è una parte preponderante dell'amore tra due sposi. Però, e questo però è fondamentale, al numero 145 il Papa dice che il sentimento potrebbe anche porsi al servizio dell'egoismo. Scrive testualmente, credere che siamo buoni solo perché proviamo dei sentimenti è un tremendo inganno perché di fatto questo porta a vivere rinchiusi nei propri desideri e quindi porta all'egoismo. Cioè, se da un lato si afferma che il sentimento è una componente importante dell'amore come lo è l'emozione, dall'altro lato si afferma che l'amore non è soltanto sentimento, che l'amore non è soltanto emozione. Per esempio l'amore è anche convincimento. Non si ama solo con il cuore, si ama anche con la testa, non si ama solo con la testa, si ama con il cuore e direi che non si ama solo né con la testa né con il cuore soltanto, ma si ama con l'anima. L'anima è la parte più recondita, più feconda, più ricca, il centro del centro di ognuno di noi. Ed è difficile superare, non superare, cioè non confondere l'amore soltanto con le emozioni, i sentimenti e nemmeno soltanto con i convincimenti, le aspettative, le idee. L'amore che parte dal profondo dell'anima è l'unico amore che attinge alla gratuità di Dio, alla totalità di Dio, all'infinito che è Dio. È difficile amare da questo punto di vista, è difficile non lasciarsi ingabbiare dai propri desideri, dalle proprie aspettative che poi portano inevitabilmente a restare delusi. Allora questa è una riflessione che certamente meriterebbe una più ampia riflessione, ma in questo contesto noi non possiamo farlo. Però basta averlo accennato. Ancora, il Papa nei paragrafi successivi sottolinea l'importanza della dimensione anche erotica del matrimonio. Certamente l'eros, scrive Francesco, ha la sua importanza nell'amore sponsale, ma altrettanto certamente la divinizzazione dell'eros, cioè l'innalzamento della componente erotica a idolo, disumanizza l'amore, lo priva della sua dignità. Certo, la sessualità è creata da Dio e indubbiamente tutto ciò che è creato da Dio è buono. Nessuno può negare che la sessualità sia una componente importante dell'amore tra due sposi e che sia buono, perché tutto ciò che fa Dio è buono. Purtroppo però, dice il Papa, molte volte la sessualità viene vissuta in modo spersonalizzato, caricandosi di patologie. Per esempio, oggi registriamo a tanti livelli le violenze nel campo della sessualità, le perversioni nel campo della sessualità, il consumismo nel campo della sessualità, quel consumismo che qualche volta porta a vivere anche le relazioni sessuali secondo il deleterio criterio dell'usa e getta. Si usano le persone come si usano le cose. Però, detto questo, al numero 157, Francesco dice che tuttavia queste distorsioni della sessualità non devono condurci a disprezzarla, la sessualità stessa, o a trascurarla. Anzi, un vero amore, scrive Francesco, sa anche accettare la vulnerabilità, il bisogno dell'altro e non rinuncia ad accoglierlo con sincera e felice gratitudine anche in quelle che sono le espressioni corporali dell'amore, quali la carezza, l'abbraccio, il bacio e ovviamente l'unione sessuale fra i due sposi. Mi pare molto bella, poi, la riflessione che il Papa fa nei numeri 161 e 162 riguardo alla verginità consacrata. Ricordiamo che nella Chiesa ci sono queste due grandi vocazioni, la vocazione al matrimonio, che è quella abbracciata dalla maggior parte degli uomini e delle donne, e la vocazione alla verginità consacrata, che è quella dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose, dei laici consacrati. Anche la verginità consacrata, dice Papa Francesco, è una forma di amore, perché è un riflesso della pienezza del cielo, dove non si prende né moglie né marito, secondo l'espressione di Matteo 22,30, perché questo ci fa dire che, e il Papa lo dice in maniera, secondo me, bellissima, chiarissima, lo dice al numero 161, mentre la verginità è segno escatologico di Cristo risorto, il matrimonio è segno storico per coloro che camminano sulla terra, un segno di Cristo terreno, che accettò di unirsi a noi e si donò a noi fino a donare il suo sangue. Quindi, la verginità consacrata segno escatologico, il matrimonio segno storico. Tutte e due questi segni sono segni dell'amore di Cristo. Il segno storico, perché Cristo nella sua vita terrena, pur non sposandosi, donò la sua vita, fece di tutta la sua vita un dono d'amore per gli altri, e il segno escatologico, perché nella logica del regno non si prenderà più né moglie né marito, non ci sarà esercizio, da questo punto di vista, dell'unione sessuale, nemmeno della procreazione, per cui coloro che vivono la verginità consacrata sono chiamati ad essere, fin da ora, fin da questa storia, segno di quell'amore che noi tutti speriamo di poter vivere nel Paradiso, nella Beatitudine Eterna. Il celibato, però, il Papa non manca di ricordarlo, corre il rischio di essere una comoda solitudine quando non viene interpretato nel segno più autentico della donazione di se stessi agli altri, perché la verginità consacrata non è rinchiudersi in un'aurea solitudine, la verginità consacrata è chiamata alla fecondità, a una paternità e a una maternità spirituali che devono tradursi, ovviamente, nella carità, verso coloro che nessuno ama, verso i più poveri, verso quelli di cui non è facile innamorarsi. Questo quarto capitolo che stiamo terminando di analizzare, al quale abbiamo dedicato ben due puntate delle nostre trasmissioni, si chiude con alcune importanti annotazioni su quella che Papa Francesco chiama la trasformazione dell'amore. Mi è sembrato molto originale questa parte della Amoris Laetitia, perché è un tema che a mia memoria non è stato quasi mai trattato in documenti magisteriali del passato. Cioè, che cosa vuole dire il Papa in quest'ultima parte del capitolo 4? Vuol dire che l'amore di due sposi va trasformandosi col passare degli anni, e questo è inevitabile che sia così. Va trasformandosi e possibilmente, dovremmo dire, va migliorandosi, va perfezionandosi. Il fatto che l'età media si sia prolungata e che le persone muoiano sempre più in età avanzata, fa sì che tanti matrimoni durino diversi decenni. Ci sono matrimoni che durano 50, 60, anche 70 anni. A chi vi parla è capitato, come parroco, di celebrare un settantesimo di matrimonio. Cioè, quindi esistono anche queste coppie, voglio dire. Questo fatto, dice Papa Francesco, comporta la necessità di tornare a scegliersi a più riprese. E comporta anche il fatto di non potersi permettere di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita. Dice Papa Francesco, due sposi possono certamente avere un progetto comune stabile, impegnare le proprie persone ad amarsi, a vivere uniti finché la morte non li separi. Ma certamente devono fare questo mantenendo viva ogni giorno la decisione di amare, di appartenersi, di continuare ad amarsi e a perdonarsi. Nella storia di un matrimonio, continua Francesco, l'aspetto fisico muta. E questo è sotto gli occhi di tutti, si invecchia, no? Si invecchia. Ma questo non è un motivo perché l'amore venga meno. Ci si innamora, infatti, della intera persona. Non ci si innamora solo del corpo, solo della bella faccia, per così dire. Ci si innamora di una persona intera, globalmente intesa. Una persona che ha una sua identità. E quindi ci si innamora tornando costantemente a scegliersi. Ora, tutto questo non può essere fatto, dice Papa Francesco al numero 164, se non si invoca lo Spirito Santo. Se non si richiede ansiosamente che lo Spirito Santo effonda il suo fuoco sopra il nostro amore, per rafforzarlo, per orientarlo e per trasformarlo in ogni nuova situazione che va presentandosi. Per cui, amarsi come sposi nei primi anni non è la stessa cosa che amarsi dopo 50 anni. Anzi, dopo 50 anni deve essere qualcosa di più grande. A me piace dire che l'amore non è stagnante. L'amore, se non cresce, diminuisce. Perché l'amore non sta mai fermo. Allora è il compito degli sposi quello di far crescere il proprio amore e di modularlo secondo le stagioni della vita che si stanno attraversando. Con questo pensiero vi do il mio saluto e ovviamente vi do appuntamento a una successiva puntata. Arrivederci.